E bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video, più esattenti si torna con le card review e si vedono le carte davvero davvero molto frizzanti Ieri è saltata perché spero che abbiate visto appunto il video sulla top 5 dei giochi di carte migliori che vi suggerirei di giocare nel 2023 Nel caso in cui non l'aveste vista andate a recuperare perché è un bellissimo video Invece oggi partiamo da security, spell del demon hunter, 2 mana, aggiungi 2 1 1 illidari con assalto in campo Outcast quindi se l'avete tutta quanta a sinistra o tutta quanta a destra nella vostra mano ne aggiunge un altro Carta che vi posso dire, non particolarmente forte Se guardiamo il power level singolo della carta ma diventa di sicuro molto più interessante se guardiamo tutto il nuovo archetipo che vogliono dare a questo demon hunter Abbiamo visto che questa espansione ritorna un po' alle origini di airson Quindi le classi hanno una propria immagine, un proprio archetipo intrinseco Dopo lo andremo a vedere in particolare col paledino Per il demon hunter hanno pensato appunto servitori con rush oppure il proprio eroe che ottiene attacco O comunque che vuole andare faccia Per quanto riguarda appunto i servitori con rush, security te ne dà addirittura 2 se non 3 servitori che potrebbero servire per altri scopi Se si guarda singolarmente questa carta non supera il 2 stelle Ma se si guarda in generale questa carta secondo me riesce tranquillamente ad essere un 3 stelle pieno Abbastanza buona ma lo scopriremo anche meglio dopo Per quanto riguarda funki, fun, fun, fin, fun, fin, non lo so bene come si pronunci 3 mana 2-2, murlock, scudo e vino I tuoi servitori con scudo e vino hanno più 2 attacco Innanzitutto a notare che è un effetto attivo in campo Non è un grido di battaglia Quindi rimangono con scudo e vino Ovviamente se lo dovessero andare a perdere diminuiscono d'attacco Quindi un 3 mana 4-2 che si presenta con scudo e vino Poi quando lo perderà tornerà 2-2 Che va a baffare anche tutti quanti i vostri servitori Questa la vedo quasi più come finisher di un mazzo con servitori con scudo e vino Rispetto a una carta che vuole andarli a baffare Però di sicuro non malissimo Queste carte di solito si sono quasi sempre giocate Bisogna capire bene se il paladino con scudo e vino Come abbiamo detto questo ritorno alle origini della classe Effettivamente funzionerà Però Funkfin fa il suo Un'ottima carta 3 stelle più che oneste Invece per quanto riguarda lo Snakebite 2 mana 1-1 Assalto Grido di battaglia Prende più 1-1 per ogni minion che è morto in questo turno Servitore che già qui si capisce un pochino dove vuole andare Demon Hunter Perché se guardiamo già Security che ti dà 2 se non 3 1-1 E Snakebite che ovviamente se voi andate ad evocare 3 1-1 a 2 mana Andate a giocare a Snakebite Vi uccidete i vari 1-1 Questa carta diventa già un 4-4 2 mana Rush Eh, eh Attenzione ragazzi Inizia già ad aumentare un bel po' il power level E quindi questa carta io gli do un 3 stelle e mezzo Secondo me sarà molto buona Bisogna capire se funzionerà appunto questa tecnica del Rush Perché ricordiamoci che Assalto era una meccanica fortissima quando uscì Ora ha perso davvero tanto Ma, eh, tuttavia Eh, mi piace molto questo ritorno a origini All'identità di classe e tutto quanto E sono molto curioso di vedere se funzionerà effettivamente Eh, potrebbe funzionare tutto quanto Perché c'è anche una carta come Rush Vestige Spell sempre del Demon Hunter Pesca 2 servitori con Rush Loro costano 1 in meno E, boom Cioè, è davvero forte sta roba Uno è un tutore immenso Perché, allora, ora Immaginiamo che non stiamo giocando un Death Knight O un Demon Hunter con servitori con Rush Ma magari stiamo giocando un Demon Hunter Che vuole tutorare solamente due servitori con Rush Oppure tre servitori con Rush Questa carta te lo permette di farlo E inoltre gli sconta pure Il costo Carta davvero buona Alla fine un 1 mana pesca 2 Fortissima che c'è da dire Quattro stelle, quattro stelle e mezzo Quanto gli voglio andare Comunque questa cosa si giocherà Se la meccanica Rush sarà forte È perché probabilmente c'è Rush Vestige Andando un pochino su Andiamo a quattro mana Abbiamo sempre una carta del paladino Si tratta di Jitterbug Quattro mana, quattro tre Scudo di vino Dopo che un tuo Un tuo Come si può dire Carattere Si intende sia servitori sia eroe Perché vi ricordo che c'è una spell leggendaria del paladino Che dà scudo di vino al tuo eroe Quindi per character si intende anche il tuo eroe Perde scudo di vino Pesca una carta Un cardro molto forte di questo mazzo Pensiamo di avere qualche servitore con scudo di vino Magari da turno 3 Andiamo a giocare questo turno 4 Andiamo a fare 2-3 trade Questa cosa Già diventa un quattro mana Quattro tre con scudo di vino Che va a pescare altre carte E inoltre avendo lui stesso scudo di vino Vi assicurerà una pescata Carta di sicuro valida Carta che anche questa Per un mazzo midrange Serve assolutamente un cardro Jitterbug lo fa abbastanza bene Quindi promossa Tre stelle piene Per questa lanternina In formato ape A 2 mana abbiamo una spell Con scambio Tra l'altro Spotlight Tradeable Converti un servitore con scudo di vino In un 5-5 elementale Praticamente Pensiamo a una curva Come protettrice 1 mana 1-1 Con scudo di vino E provocazione L'avversario A suo turno 1 Non gioca niente Voi andate a giocare Attaccate con l'1-1 Andate a giocare Spotlight Vi diventa un bel 5-5 A turno 2 E yeti Vento freddo Spostati Che qui È aumentato Il power level A livelli incredibili Carta Forte Forse Fin troppo Sbagliata Se appunto Usate in questa modalità Di sicuro Un 4 stelle 4 stelle e mezzo Se le merita tutte Ma non interessante Di sicura Quanto Infinitize Ve Maxitude 2 mana Un milausi In formato disco Discovera Una spell Finale Fai tornare Alla tua mana In questo A fine turno Questa Questa carta Praticamente Un card generator Infinito Se pensiamo Una carta simile Potrebbe essere La spell Da 3 Che vi arriva Dalla 6-6 Del prete No Non mi ricordo Ora il nome Io sono sempre Stato negato Con i nomi Quella spell Da 3 Innanzitutto Costa 3 mana Per discoverare Una spell D'ombra Invece qua Una spell Casuale Comunque E poi Richiede appunto Un setting Molto pesante Insomma Devi andare a giocare Una 6 mana 6-6 Che vi da Una spell Che non fa nulla E così via Invece Infinitize È di sicuro Forte Soprattutto In un mazzo Casino Mage Una magia Che non è difficile Da far attivare Il suo finale In quanto Comunque Mage Non dovrebbe avere Troppi problemi E niente Discoverare Tra l'altro Una spell È di sicuro Fortissimo E questa magia Io credo Che si vedrà Più o meno In tutti I mazzi Mage Di questo mondo Davvero Molto molto forte E molto valida Come spell Leggendaria 4 stelle E mezzo Per quanto riguarda La leggendaria Del demon hunter Si parla di Elveria Dark raven 4 mana 4-3 Rush Dopo Che un servitore Con rush Attaccato Dai Ai tuoi altri Minion Più uno Attacco Ecco Una carta Che forse Tra tutte quelle Che abbiamo visto Il pacchetto rush Mi lascia Un pochino Con la mare In bocca Non mi fa Entusiasmare Troppo A dire Vero Ovviamente Se noi stiamo Giocando Un solo mazzo Con tutti i servitori Rush Questa cosa Potrebbe diventare Abbastanza forte No Quando è che Elveria Ha il massimo splendore No Quando Magari Andate a giocare Lei Vi fa un value trade Avete già 3-4 servitori Con rush Andate ad attaccare L'avversario Faccia Perché Appunto Magari Il turno 3 Avevate messo 3 lidari Che sono lì Attaccate Con questo Tutti i vostri servitori Diventano De 2-1 Attaccate con Un servitore Gli altri 2 servitori Diventano 3-1 Attaccate con L'altro Diventano 4-3 Più 2 Che sono 9 Più Altri servitori Diventano Tanti danni Però Appunto Qua si va A migliorare Solo di attacco Ci sono carte Che hanno fatto Molto meglio Tipo Rokara Pensiamo Che dà Comunque Un più Uno Più Uno Ed è una Carta Secondo me Molto più Forte Di Questa Alveria E Peccato Perché Mi aspettavo Un pochino Di più Da Da questo Archetipo Rush Per carità Le carte Viste Prima Sono Molto Buone Mi Piacciono Tantissimo Ecco Questa Molto Meno Poi Che venga Tutorata Benissimo Da Rush Vesage È vero Quindi È semplice Ottenerla Però Però Appunto Power Power Level A me Non Fa Impazzire E Per Questo Non Gli Posso Dare Più Di Tre Stelle Detto Questo Direi Che Per Oggi È Tutto Di Sicuro La Miglior Carta Vista È Infinitize Vemaxitude La Peggiore Forse Addirittura La Leggendaria Del Demon Hunter Sono Molto Curioso Se Voi Avete Altre Da In Merito E Niente Noi Ci Vediamo Domani Con Un Nuovo Video Fatemi Sapere Che Ne Pensate E Niente Ciao Ciao